In che consiste questo progetto? È un bellissimo progetto che abbraccia per il momento 36 i nostri borghi delle aree interne, non solo ma anche della costa, dove è prevista l'installazione di una postazione di bike sharing, ognuna delle quali dotata di quattro biciclette a pedalata assistite, che saranno poi gestite una volta realizzate dai comuni in collaborazione con le associazioni individuate attraverso una manifestazione di interesse pubblico a cui hanno aderito. È un progetto che quando prenderà forma? Quali sono i tempi? E quanto costerà? Il progetto vale circa 2 milioni e 100 e qualcosa, noi partiremo con la gara europea da qui a qualche giorno, perché abbiamo tutte le autorizzazioni, siamo quindi in procinta di partire con la gara, il tempo di espletare questa gara europea, perché il costo è al di sopra della soglia nazionale, per cui dovremo andare sulla gazzetta europea e poi i tempi di esecuzione che sono previsti in 180 giorni. Volendo fare una previsione? Io credo che per l'inizio dell'estate prossimo, essendo avendo una buona dose di ottimismo, dovremo riuscire a tagliare il nastro. Un altro progetto a tutela dell'ambiente, ma anche a favore della destagionalizzazione turistica? Assolutamente sì, oggi vivere il parco in bicicletta penso che possa essere una delle esperienze più belle in assoluto da poter vivere, il bike sharing in 36 comuni, 36 postazioni in 36 comuni diversi, probabilmente la rete più grande d'Italia, ma non solo, anche in Europa, un coinvolgimento di un territorio vasto. Noi riusciamo in questo modo a poter vivere ogni angolo del nostro parco e poterlo scoprire attraverso la bicicletta, quel turismo esperienziale che oggi diventa uno dei veri e propri punti di forza del nostro parco. Basta pensare che oggi l'interesse per la bicicletta, l'interesse per il turismo in bicicletta, è aumentato in modo esponenziale. Ecco, quindi penso che ancora di più noi possiamo rafforzare quel progetto di favorire un turismo che dia opportunità reale, ma lo dia in modo sostenibile. E questo incoraggia a realizzare anche più piste ciclabili? Ma assolutamente sì, stiamo contemporaneamente e parallelamente lavorando anche su questo fronte. Fra qualche giorno ci sarà consegnato il progetto per la grande pista ciclabile del Tanacro, nel Vallo di Diano, che è un'altra bella sfida che abbiamo messo in campo. Stiamo lavorando al miglioramento della pista ciclabile ad Ascea.